Sono Francesca Benetti, sono originaria della provincia di Varese, sono mamma di due maschiacci, Lorenzo e Leonardo, le mie gioie e lavoro in secco da aprile 2000. Sono responsabile del reparto THT, una tecnologia furopassante, in pratica montiamo i componenti provvisti di pin nello stampato dove ci sono dei fori. Il mio reparto è composto da due linee selettive, una linea di conforma al coating di verniciatura, una lavatrice, una macchina per il depaneling, una postazione per la programmazione dei componenti e due o tre postazioni in base alla disponibilità del reparto di aggiornamenti e modifiche su schede. Da quando sono entrata in secco ho sempre lavorato nel reparto THT, quindi sono 22 anni che lavoro qui e credo di essermi fatta un buon bagaglio, un buon bagaglio di esperienza, di conoscenza e due anni fa appunto mi è stato proposto questo ruolo che ho accettato al volo, senza tanti pensamenti, ripensamenti, benché mio marito non fosse d'accordo perché appunto mi sarei un po' meno occupata di quello che poteva essere la famiglia e le cose di casa. Però ho seguito quello che era la mia voglia, il mio carattere, sono ariete, sono testarda e quindi ci credevo e ci credo ancora. Tra i valori di secco quello in cui mi riconosco di più è la passione, la passione che impiego nel mio lavoro, nel mio operato perché ci credo, ci credo, mi piace, mi piace tanto il mio lavoro che può essere un bene o un male, in questo caso dai è un bene, mi soddisfa, mi soddisfa quello che faccio e mi piace.